Sindaco, piano di distruzione della Tercas, di ristrutturazione, sono 900 persone, 600 in filiali e 300 per quanto riguarda la direzione. Pare che ci siano due filiali in corso di chiusura, una della Cona, quell'altra dell'ospedale Mazzini, parliamo ovviamente di Teramo, e la direzione centrale in corso San Giorgio alle ore contate. Sì, un piano di demolizione e distruzione come dicevi tu, che va assolutamente azzerato. Va azzerato perché ovviamente il contesto dal quale siamo partiti è completamente diverso rispetto a quello che stiamo vivendo ora e quindi è giusto che ci sia un ripensamento, una rimodulazione dei criteri con cui si è iniziato a stabilire questo piano da parte dei commissari che stanno portando avanti un lavoro tutto numerico, tutto basato appunto sul taglio di teste e di posti, di filiali, quando invece si deve assolutamente tener conto per il momento che viviamo, soprattutto il momento che vive il nostro territorio, assolutamente dell'impatto economico, sociale che sul territorio ha questo tipo di operazione. La regione Abruzzo è la regione che ha il maggior numero di filiali all'interno di Banca Polaria di Bari. Deve essere assolutamente la quota di ex Tercas, ex Caripe. Com'era un'opportunità allora? Deve essere un'opportunità ora di rilancio e certo non è assolutamente corretto che venga penalizzato un territorio, come diciamo prima, già martoriato dalla ricostruzione. Ci eravamo tanto amati. Come funziona in Italia? Ci sono gli aiuti di Stato e le banche per acquisire altre banche in difficoltà e poi ci si dimentica tutto. Io credo che proprio perché quest'operazione nasce a dicembre con un intervento dello Stato a sostegno di Banca Polaria di Bari, ma di tutto ciò che sta dietro, che si debba assolutamente tener conto dell'esigenza che il territorio sta vivendo. 900 esuberi, come si ricordava, un numero altissimo di filiali che vengono tagliate. È un momento in cui i presidi sul territorio devono assolutamente restare, permanere, essere rafforzati, soprattutto quando c'è dietro un intervento del pubblico. Queste sono le scelte politiche e istituzioni che devono essere messe in campo. Come Anci Abruzzo siamo partiti già da qualche mese, abbiamo intensificato l'azione, chiediamo un incontro ai commissari, ma soprattutto è necessario che si faccia fronte comune, tra sindaci, perché è un'esigenza del territorio, ma anche coinvolgendo ovviamente la regione Abruzzo, i nostri parlamentari e il governo, quindi una filiera istituzionale a difesa di un territorio che non può subire l'ennesimo danno.